Oggi ragazzi torno da voi con un nuovo unboxing. Sì, è un'altra B550, ma questa è speciale. Oggi infatti vi parlo della Vision D di Gigabyte, sempre in chipset B550, che abbiamo già conosciuto nelle settimane scorse e di cui magari vi lascio qualche video approfondimento qua nelle schede. Questa è una scheda un po' particolare, perché in realtà non è proprio come quelle che abbiamo visto fino ad adesso. È prettamente dedicata e studiata per i content creator, almeno così addetta di Gigabyte ovviamente. E ha tutta una serie di caratteristiche che ora andiamo a vedere anche magari un po' più nello specifico per questo mondo, diciamo. Quindi già di base capite che non è una scheda per tutti. E già il design è bello fuori dal comune, ma ne parliamo tra un attimo. Nella confezione, invece, vediamo un po' che c'è. Guida all'installazione multilingua. Il classico libretto di istruzioni con un vetustissimo CD. Ormai ci perdo le speranze. Fatemi sapere se avete un lettore CD ancora nel computer. Commentate e fatemi sapere. Dopodiché, scomparto 1. Ovviamente cavo adattatore per gli RGB. Ovviamente un buon numero di SATA, perché essendo una scheda per content creator, almeno un 4 SATA ce li ha. Infatti questi sono proprio 4. Mentre nell'altra parte, il comodissimo adattatore per i pin che connettono il case e tutto il pannello input-output del case alla scheda madre. Super comodo. E il mega antennone per il Wi-Fi 6. Ovviamente stradi design come tutto il resto della scheda. Molto carino. Mi aspettavo una confezione un po' più ricca, però... Beh, passiamo a vedere la scheda. Al di là delle caratteristiche e compatibilità tipiche del chipset che appunto abbiamo già imparato a conoscere, la scheda monta delle specifiche particolari, perché come hai detto appunto è dedicata a un mercato molto particolare, ovvero quello dei content creator, che tendenzialmente hanno bisogno di tutta una serie di caratteristiche abbastanza importanti, ovvero ad esempio i dischi ultraveloci, qui c'è la disponibilità per due slot 3.0-4.0 per quanto riguarda lo standard di PCI Express e nel secondo caso sempre da 3.0, ma entrambi a quattro linee di disponibilità. C'è la predisposizione per una doppia GPU, entrambe le porte sono a 16x, quindi entrambe possono montare schede anche ovviamente incluso il nuovo standard PCI Express, quindi 4.0, e una terza eventuale anch'essa a 16x per eventuali configurazioni di schede di accelerazione o eventuali aggiunte appunto alla configurazione. Per quanto riguarda la configurazione di dissipazione della parte dei VRM e dell'alimentazione della CPU, come vedete, qui c'è tutto un sistema un po' ricurvo, un po' molto particolare, molto di design appunto, che ricopre tutta la zona dei VRM qui posizionati. E in generale tutto il comparto di dissipazione della scheda, quindi nella zona alta, nella parte dello shield input-output e nella parte del chipset qua sotto, è tutta molto appunto ricercata, molto di design per diciamo anche star bene magari in qualche configurazione abbastanza particolare. L'unica nota stonata è questo SATA arancione nella parte sotto. Perché? In realtà si vede anche un po' la zona della scheda audio, del comparto audio, però in questo caso fa un po' più pandan con il resto. Mal SATA arancione. Vabbè, ovviamente non manca tutta la predisposizione di shield, quindi rinforzi per gli slot PCI qua e per le RAM che possono montare appunto anche lo standard DCC per appunto proteggere il trasferimento dati. In questo caso proprio una delle killer application, tra virgolette, di questa scheda madre pensata per i content creator. Disponibilità per ventole io ne vedo infinite, perché ce n'è una a fianco al connettore per l'alimentazione, che voi adesso non state vedendo ma è qui. Il connettore dell'alimentazione tra l'altro che è coperto da questo mini shield, che potete rimuovere nel momento in cui andate a collegarlo. due nella parte superiore, quindi classico CPU fan e pump fan, tre nella parte laterale e altre due nella parte sotto. Più un sacco di collegamenti per quanto riguarda le USB interne, USB 3.0, collegamento input output, SATA, sia qui sia nella parte laterale. Il classico pannellino a led di debug per appunto i codici di errore nel caso dovesse succedere qualcosa. L'unica cosa che davvero manca, e non riesco a capire il perché, è sempre la header per l'USB-C frontale del case, per le USB-C integrate nel case. Qui in questo caso abbiamo una USB 3.2, quindi le porte classiche, le porte standard in Type A, ma per la Type C non riesco a capire come mai non c'è una header. Solitamente è una scelta che si fa sulle schede Mini TX, ma su questo design standard non mi capacito del perché non posizionarla oggigiorno. Niente backplate nella parte posteriore, ma è anche vero che stiamo comunque parlando di una scheda che al momento è recuperabile addirittura al di sotto dei 300€, perché la trovate facilmente anche a 250, 260 su alcuni store, quindi ci può stare che non includa tutte le feature delle schede di fascia alta. E ovviamente l'altro punto di interesse fondamentale per i content creator è l'input-output. Ricchissimo in questo caso. Oltre a vantare il Wi-Fi standard 6, quindi il nuovo, l'ultimissimo Wi-Fi disponibile, ci sono due porte video con un HDMI e una DisplayPort, una buonissima quantità di porte USB per tutti i collegamenti di dispositivi, chiavette, lettori SD, eccetera, eccetera. Una doppia LAN configurata apposta per funzionare, doppia gigabit LAN appunto configurata apposta per dare stabilità a livello anche network alla scheda e a tutti i lavori che ci dovete fare. E altro grande vanto è la doppia USB-C, che può essere utilizzata sia per quanto riguarda l'utilizzo di un monitor, sia per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi ad alta velocità. Quindi come standard abbiamo il doppio collegamento che può essere utilizzato come trasferimento classico, ma anche per appunto aggiungersi alla serie e alla capacità di porte video disponibili. Da questo punto di vista è probabilmente una delle B550 più fornite a livello di input-output. Nel complesso la scheda è davvero super accattivante, perché ha questo design molto particolare che personalmente apprezzo moltissimo, ha tutte le scelte di efficienza e tutte le scelte per quanto riguarda noi content creator, che possono diciamo essere quelle più desiderate in generale. Supporterà chiaramente i Ryzen di quarta generazione come tutte le B550, gli Shield per gli M2 per appunto mitigare le temperature anche nello standard più recente, quindi il 4.0, le porte input-output, la dissipazione in generale della scheda dei VRM, del chipset. Insomma di caratteristiche davvero molto molto interessanti ne ha quante ne volete. Ovviamente non è una scheda diciamo consumer, quindi state comunque spendendo 200 e passa euro per una scheda di questo tipo, che è dedicata prettamente a un tipo di pubblico molto particolare. Ma ovviamente la parola adesso rimane a voi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa Vision D di Gigabyte, io ovviamente vi lascio i link in descrizione per andare a ritrovarla, e non dimenticate di farmi sapere se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e tutte le solite cose che fate a fine video. Noi ci vediamo nei prossimi giorni in tanti altri video ancora. Ciao!